Dallo spazio Camera di Commercio di Torino al Salone del Libro siamo con Erika Arbrile di Coldiretti e rappresentante dell'azienda agricola Arbrile. Quindi qui abbiamo proprio una storia d'impresa che innanzitutto raccontiamo. Buongiorno a tutti, sono Erika Arbrile, sono di Frossasco e ho un'azienda di vacche da latte a Leviamo Frisone. Abbiamo all'incirca 120 capi in mungitura per un totale di 300 animali. Faccio questo lavoro fin da quando ho smesso gli studi, sono diplomata in geometra. Questo lavoro mi appassiona fin da quando sono bambina per quanto riguarda la natura, l'agricoltura, lo spazio aperto e soprattutto per il nostro paese che è bellissimo. I miei progetti futuri sono, oltre che continuare l'allevamento, aprire un'agrigelateria con anche trasformazione qualche formaggio, yogurt e tutto quello che riguarda l'ambito dell'agrigelateria e trasformazione. Sì, volevamo in effetti arrivare un po' qui. Abbiamo già parlato di agri-chef, qui si parla di agrigelateria. Intanto non sono ancora forse così note queste realtà, quindi spieghiamo di che cosa si tratta e sono termini che stiamo imparando a conoscere sempre di più, forse questo è il futuro. Sì, l'agrigelateria consiste nell'utilizzare i nostri prodotti, in particolare il nostro prodotto di primo è il latte e trasformarlo sia in gelati, in yogurt e tutti i trasformati derivati del latte. E questo è un motivo per valorizzare i nostri prodotti sul nostro territorio e far capire alla gente quanto sia importante in ogni zona avere un punto per poter andare a gustare i prodotti e poter anche dare buon esempio per le nuove generazioni. Insomma, mestieri che magari possono sembrare del passato sono assolutamente del futuro. Assolutamente sì e sono contenta che ci sono sempre più giovani e soprattutto ragazze che vogliono intraprendere questo percorso, non solo per quanto riguarda l'agrigelateria ma per tutto il mondo agricolo. Basti pensare alle domande di insediamento che ci sono, che sono aumentate notevolmente e questo è veramente una cosa bellissima perché per fortuna non si pensa più che il mondo agricolo sia vecchio e retrocredito, anzi c'è un sacco di innovazione e tantissimi giovani che vogliono fare questo lavoro e sono molto orgogliosa. Grazie.